Sale a due il numero delle vittime dell'incidente stradale avvenuto la sera del 14 giugno scorso sulla strada che collega Cutrofiano con Corigliano d'Otranto. Antonio Negro, il 60enne, originario di Cutrofiano, alla guida della Smart, uno dei tre mezzi coinvolti, è deceduto nella mattinata di sabato 13 luglio presso l'ospedale Veris degli Ponti di Scorrano, dove era stato ricoverato a causa dei gravi traumi e ferite riportate agli arti inferiori. Presso il nosocomio, il 60enne, raggiunto in quella terribile sera insieme alla moglie Anna Orlando, che è ispirata due giorni dopo il sinistro, il 16 giugno, presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stata trasferita d'urgenza in codice rosso. I due viaggiavano a bordo della loro auto, la quale, all'intersezione dell'arteria extraurbana con via San Nicola da Tolentino, si è scontrata frontalmente contro un Audi A3 che viaggiava sulla corsia opposta. Subito dopo l'impatto, l'Audi si è fermata qualche metro in avanti, mentre la Smart ha terminato la sua corsa impattando contro il guardrail adiacente la carreggiata. Un terzo veicolo, inoltre una Fiat Punto, è rimasta coinvolta nel sinistro, risultando danneggiata. La parte anteriore, sul parabrezza di questo veicolo, si è scontrata la donna dopo essere sbalzata fuori dalla Smart. Oltre ai due coniugi, in seguito all'impatto, sono rimasti feriti anche il conducente della Fiat Punto, il trentenne che viaggiava a bordo dell'Audi. Cutrofiano piange la seconda vittima di quel terribile incidente. Nel paese i due coniugi erano molto stimati ed erano titolari di una scuola di danza.